buongiorno a tutti cari amici benvenuti alla puntata di oggi di 58 seconds review vi ricordo che se vi piace questo format questa mia rubrica che tengo quotidianamente vi chiedo di iscrivervi al canale youtube e mettere mi piace alle recensioni che vi piacciono grazie oggi è scelto per voi questo disco si intitola sospesa l'autrice chiara raimondi e l'etichetta è la coine che è una sussidiare della 12 lune chiara raimondi è una bravissima cantante in questo album ci propone sette brani 5 originali e 2 che non sono originali ma sono you must believe in spring di michelle gran e whisper not di benny golson questo disco è particolarmente bello a me per quello che vale è piaciuto moltissimo ed è il classico esempio di un album originale ben suonato ben eseguito in cui anche due brani che non sono originali sono rivisti totalmente e in maniera originale in maniera tale da far capire la personalità dell'esecutore un disco quindi che mi invito ad ascoltare più e più volte ciao e a domani